Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Mancava un porco di boost. Era un porco di boost, ragazzi. Giuro che non volevo uscire la bestemmia. Era un porco di boost. Dare bene quanto sono qua! Grazie Fede! Grazie! Figa peccato per la fine. Grazie Fede, lei è veramente pazzo! Grazie di cuoro. Grazie di cuoro. Mattacchione pazzo. Il pescatore. E lui il counter comunque, bravo. Pesce secco sotto lineatura, 42 mesi. Ciao pesce! Esatto, sapevo che giocasse la poison. Johnny, 16 mesi. Buongiorno su... Buongiorno, bro! Buongiorno! Grazie di 42 pesce! Fireball è giusta. Però... niente, raga. Spiritello. Lui è l'estrattore. Fireball sull'estrattore. Questo c'è l'estrattore al 15. Non c'è problema, Matt. Golem. Che comunque è abbastanza counterabile. Eci, per favore, Vincenzo, perché stai andando in quel posto? No, non sono io che cosa... Non è che porto... Oddio, vieni! Perché va dentro di stese del pocco? Io... Le arrivo subito. Il 2 marzo. Perfetto. Buongiorno! Buongiorno! Andiamo. Buongiorno! Il 2 marzo. Va bene. Andiamo avanti. andiamo avanti all'ultimissimo secondo raga io non regalo elisir la fenice al 14 hai fatto malissimo al passeggero con calma si ma al fatto dove spara come disto riprendi le vatte come faccio sono morti ragazzi ragazzi sta io perché devi fare col busto si ma sono riuscito a farlo adesso senza busto ho visto ho visto che c'è mi scusi giallo ho visto che ha attaccato le feste se vuole fa venire le feste che già ieri ha avuto un sacco di problemi attaccato l'ernesto ho visto che ha attaccato se ha piacere lo tirerei dentro è che ieri Zan e Nettuno non tagliate il traguardo non tagliate il traguardo grazie 100 patetine per favore pelano sottolineatura 777 non faccia diventare mattolo 6 per favore Sburbis faccia il bravo fate i bravi che ride a crepapelle faccina che ride a crepapelle faccina che ride a crepapelle faccina che ride a crepapelle da Exiuder la vinci questa per favore e porco Dio e porco Dio troiaccia puttanaccia merdaccia ma quanti commenti devo fare ancora 20 e sono dentro fidati 41 mesi buongiorno su siamo in 41 mamma che gasa raga mamma che gasa raga madonna competitiva come sei morto Vincenzo scusami capitato che si vero ci sta è successo si era ragazzi dobbiamo fare tutti la counterata è arrivata bene purtroppo la sua macchina volante sopra rompe parecchio il cazzo porco Diaz ma poi oh ma quanto ci vuole a calarla Dio Cristo Dio Cristo ma quanto ci vuole a calarla parco Diaz Diaz ho già capito dai per farmi perdonare vado con vado con sbianchina dai dai raga no questo è un capriolo figa tutto è evitato ma come ha fatto ma porco Diaz raga bellissimo spara un colpo che si arrivano no vabbè mi è scappata io comunque basta cazzo 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 si di brutto ciao white blanco per 100 mila spegnerebbe il monitor del pc di uno dei finalisti della bombare cap si subito ma anche per 100 euro tranquillamente proprio amo lo sanno tutti quando lavoro ma è meraviglioso io l'avevo mai visto è finito ma quanti commenti devo fare ancora ancora 20 e sono dentro fidati insomma ragazzi insomma ragazzi di tanto ringrazio anche vincente però male trasporto cadavere non è male voglio voglio riguardarlo e niente dov'è niente e vabbè oddio cazzo ce lo so l'avevo si 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 è lì alla scala scala io non sapevo neanche fosse possibile una cosa del genere lasciamo la qua e andiamo avanti magari saliamo e poi scendiamo ok ok lol e no solo i beats sono le A si si ho fatto le gare stamattina Brizio sono arrivato ai lì 60% ci siamo fermati e pensare che mi ha detto che metteranno tutti i modelli di rocket league piano piano ecco questa è una cosa che non volevo sapere che pipa che sei l'ho ammazzato brava allora arrivo ma su due mamma che scarso l'altro scappo in acqua l'altro scappo in acqua verso la parte puscialo puscialo ragazzi io non riesco non riesco a muovere questa cosa ma che cosa cazzo sta succedendo si aggancia con rampino adesso è a sinistra figao non si è agganciato a una parete raga sono davanti così continuo ad aggiungermi ordini figa pomeriggio chiudo la live ho 12.000 euro di ordine grazie a tutti grazie a tutti